Ok, eccoci di nuovo. Bene, dopo questa prima relazione puntata al futuro io torno al presente perché vi devo far vedere quello che possiamo fare al momento. Le diapositive sono in inglese ma io parlerò in italiano. Quindi il tema è l'applicazione e il monitoraggio nelle patologie neurologiche e l'ambito di applicazione si è molto espanso però naturalmente il paradigma a cui io farò riferimento per l'applicazione del monitoraggio rimane ovviamente l'ambito dell'epilessia e del deficit di glutuno che sono le patologie per cui abbiamo la maggiore esperienza e il maggior numero di linee guida. Mi fa piacere ricordare che la stessa presentazione con lo stesso titolo era stata oggetto di una relazione alla prima conferenza internazionale che abbiamo fatto a Pavia nel 2005 su iniziativa proprio del professor Veggiotti e ricordo con piacere che allora rappresenti il professor Freeman che è considerato da molti il padre della rinascita dell'applicazione della terapia chetogenica negli anni 90 e rappresenta anche il professor Klepper, il professor Veggiotti e la professoressa Bertoli che ritrovo qua con grande piacere a parlare di questo argomento e il punto che io avevo sollevato allora siamo quasi a vent'anni di distanza era legato all'estrema difficoltà di fare questo tipo di terapia dietetica in quanto ci trovavamo di fronte a dover impostare una dieta che era molto squilibrata con un estremo deficit di carboidrati, eccesso di grassi e quindi con tutte le problematiche che possono derivare da queste impostazioni. Da allora diciamo che è cambiato il mondo possiamo dirlo sono uscite tantissime linee guida, non posso ricordarle tutte perché ci sono sia internazionali che nazionali anche dei vari stati europei quindi non posso certo citarle tutte ma mi limito a far scorrere tutte quelle che sono uscite a livello internazionale e ovviamente con particolare riferimento a quelle italiane la prima versione nel 2011 e l'anno scorso anche una consensus del gruppo di studio di etoterapie coordinato dalla professoressa De Giorgis per la sessione italiana della lega internazionale contro l'epilessia. Sempre qualche anno fa abbiamo fatto il punto in un convegno a Milano organizzato dal professor Veggiotti che parlava di cent'anni dal primo utilizzo della dieta chetogenica negli anni 20 e uno degli aspetti che io avevo messo in luce era proprio come adesso siamo di fronte ad un insieme di terapie chetogeniche non più a una dieta chetogenica che era un termine che si usava appunto all'inizio degli studi in questo ambito. La possibilità di avere uno spettro di terapie consente una maggiore personalizzazione, una maggiore flessibilità del trattamento anche se molte delle nostre conoscenze derivano dall'utilizzo e dall'applicazione proprio della dieta classica che è quella che è stata più testata e più usata almeno in questo ambito. Alcune delle novità che sono legate appunto all'applicazione della dieta con diversi protocolli è legato al fatto che abbiamo adesso delle impostazioni dietetiche che ci permettono anche un apporto un pochino superiore di carboidrati, una varietà nell'uso degli acidi grassi sostituendo acidi grassi a lunga catena con acidi grassi a catena media. La scelta, una maggior attenzione alla qualità degli alimenti che vengono utilizzati e utilizzati adattandoli anche a esigenze dietetiche particolari. Una maggiore varietà e disponibilità di prodotti che possono essere usati nella terapia, la possibilità anche di utilizzare la nutrizione artificiale con dei protocolli di nutrizione parenterale che sono stati testati peraltro nel numero limitato di pazienti ma per i quali esistono le linee guida e non ultimo l'utilizzazione della telemedicina a cui siamo stati tutti costretti durante la pandemia che però ha portato come vantaggio il fatto di avere forse uno strumento in più che ci consente di seguire pazienti a distanza. Tornando alla composizione dei nutrimenti ovviamente il mio focus è strettamente dietologico che è l'ambito che noi abbiamo, il ruolo che noi svolgiamo nel chito team, possiamo vedere come a fronte dei vari protocolli che vengono utilizzati nell'area delle patologie neurologiche il punto chiave rimane sempre la quota lipidica. È indispensabile che noi portiamo energia sotto forma di lipidi al posto dell'energia che togliamo sotto forma di carboidrati quindi la prevalente componente lipidica delle diete che in questo articolo di Leone, ecco che è presente anche qua oggi, è chiara. Quello che può cambiare ovviamente può essere una maggior o minore rappresentazione dei carboidrati, quella vediamo che è particolarmente più elevata nelle forme che utilizzano gli acidi di grassi e catena media. Questo naturalmente in confronto a quella che noi consideriamo una dieta bilanciata che è una dieta sul modello mediterraneo che è quella che è consigliata nella popolazione sana. Dal punto di vista della scelta e della qualità degli alimenti è sempre stata prevalente l'utilizzo di alcuni alimenti ricchi di grassi come ovviamente burro, maionese, panna e altri che sono anche ricchi di acidi grassi saturi. Una possibilità che abbiamo aggiuntiva e che si è evidenziata nel corso degli anni e avrei piacere poi di conoscere se qua presente la professoressa Gusell che cito in questo articolo che ha sottolineato come per esempio possiamo cercare di arricchire le diete dei pazienti con delle fonti di acidi grassi vegetali, insaturi, come ovviamente in Italia e nei paesi mediterranei è più semplice visto che abbiamo una vasta disponibilità di olio extravergine di oliva, ma anche altre scelte possono aiutarci come ad esempio arricchire la dieta di frutta secca o scegliere delle fonti proteiche alternative rispetto alla carne. Su questo punto abbiamo posto l'attenzione approfondendo quelle che potevano essere le possibilità per creare una versione diciamo mediterranea della terapia chetogenica, fosse più semplice vederla in questo grafico per cui ringrazio la dottoressa Guglielmetti che è appena entrata in sala, che è l'autrice, le mie collaboratrici sono molto più brave di me a realizzare questi grafici alla abstract e in cui si può vedere appunto come a fronte di un'impostazione che chiaramente vede alla base i grassi in questa terapia, ci possono però essere delle scelte alternative guidate che possono vedere un aumento delle fonti vegetali. Ovviamente esistono poi pazienti che necessitano di seguire questa terapia, che hanno altre esigenze dal punto di vista dietetico, come pazienti celiaci o pazienti con intolleranza al lattosio, ma anche questo può essere risolto ovviamente con delle scelte opportune. Andiamo avanti e ho citato, mi fa piacere ricordare proprio questa pubblicazione, che non vuole essere una sostituzione delle linee guida internazionali, come c'è un ampio consenso, ma vuole puntare e avvalersi dell'esperienza dei maggiori centri che hanno esperienza dell'applicazione in Italia, raccogliendo quelle che sono anche le criticità e che ha quindi portato all'accento su alcuni punti. È un documento che mi invito a leggere, io ricorderò alcuni aspetti, come per esempio proprio abbiamo la possibilità di una maggiore flessibilità nella prescrizione dietetica, quindi anche nel primo incontro è importante valutare la compliance attesa della famiglia e valutare un pochino anche sulla scorta di quanto avete sentito prima dal professor Kleppe, quale sia il protocollo più adeguato in base all'età, la severità dei sintomi e della situazione e quindi in un certo senso possiamo disporre di un approccio personalizzato. Ovviamente dal punto di vista nutrizionale rimane fondamentale la valutazione durante l'assessment che può essere fatta attraverso vari step. Nei casi possibili andiamo a misurare il fabbisogno energetico, rimane un punto chiave quella di adeguare l'apporto calorico della dieta alle necessità del paziente e di aggiustarlo nel caso di un bambino mano in mano che cresce e poi altri aspetti, lo studio delle abitudini alimentari che può mettere in evidenza, ovviamente delle preferenze non sempre possono essere conservate, questa è una terapia dietetica quindi a volte bisogna trovare il modo di fare delle sostituzioni o di cercare il meno peggio e la valutazione biochimica e la valutazione antropometrica che nel caso di bambini ovviamente diventa fondamentale per il monitoraggio. e nello stesso documento e non mi soffermo trovate anche quella che è la consenso sulla follow up e sugli esami minimi e ottimali da fare, mentre invece passo qualche minuto di più sull'aspetto proprio di monitoraggio che in questo caso punta alla prevenzione degli effetti collaterali. Effetti collaterali che sappiamo sono diversi a secondo del periodo del trattamento, molto diverso può essere un problema che si pone nelle prime settimane, nei primi mesi da quelli che si pone durante invece un percorso più prolungato nel primo anno o se come può succedere proprio nei pazienti con il deficit di glutuno la terapia prosegue oltre i primi anni e a volte per molti anni o per tutta la vita. Allora qualche punto, ad esempio primi giorni, primi settimane è sicuramente più importante andare a fare un monitoraggio dei livelli di chetosi, come lo possiamo fare? E questa è una domanda ECM, tra parentesi. Può essere fatto sia alle visite di controllo che a casa, alle visite di controllo in ospedale verrà fatto sul sangue, a casa possiamo farlo sia sulle urine sia anche sul sangue capillare usando il sangue capillare al dito e il riflettometro. Torniamo al monitoraggio in particolare degli effetti collaterali. In un periodo successivo, quindi parliamo dopo i tre mesi, un anno, ci sono vari problemi ma puntiamo un attimo la prevenzione delle carenze vitaminico-minerali. Questo è un aspetto che noi consideriamo fin da subito. La dieta viene integrata in base proprio a quelle che sono le carenze più frequenti dovute allo schema dietetico e anche su questo c'è un consenso, in particolare tra i gruppi di esperti italiani, sul fatto che è sempre necessaria un'integrazione vitaminico-minerale molto spesso con calcio e vitamina D, ma ci sono anche altre integrazioni che possono essere utili, tra cui ovviamente l'uso di probiotici, in qualche caso la carnitina, olio MCT, il citrato di potassio che in alcuni centri come nel nostro è dato di routine, in altri meno, ma è sicuramente un presidio da tenere presente. Andando ancora avanti e quindi arrivando al proseguimento, al monitoraggio di pazienti che seguono la dieta per anni, è importante certamente, specialmente in età evolutiva, ma non solo, quindi anche andare a considerare la crescita e il metabolismo dell'osso. Sulla crescita dico qualche cosa in più perché ci abbiamo lavorato e abbiamo pubblicato diversi lavori, questo è del 2019 su 34 bambini con epilessia farmacoresistente e glutuno, a cui è stata prescritta una dieta normocalorica, quindi con una copertura al 100% del fabbisogno energetico, integrata correttamente e con anche l'uso del citrato e quello che vorrei dire è che in questo gruppo di bambini solo il 20% ha mostrato un rallentamento della crescita, mentre l'80% ha avuto una crescita ottimale. Un'osservazione interessante che sarà poi da discutere o da riprendere o da confermare è che il 20% di bambini che avevano un rallentamento erano anche gruppo che aveva livelli di chetosi più elevata, anche se è un trend e non è una significatività. Altri studi usciti negli stessi anni che confermano come un ritardo di crescita può interessare una piccola percentuale del campione è stato fatto anche in Argentina, da Armeno e questo in Svezia in cui hanno visto che in realtà una, questa però usavano la dieta di Atkins modificata, c'è stato un rallentamento a 6 mesi ma non a 12, a 24 mesi, un po' controcorrente i dati degli inglesi che viceversa hanno evidenziato però attenzione in alcuni bambini più a rischio, più giovani oppure non deambulanti la possibilità appunto di un effetto negativo nei primi tre anni ma poi una ripresa della crescita dopo l'interruzione. Ma proprio nel 2023 a firma di Amices, gruppo di Milano e anche con la nostra collaborazione direi che 5 anni di dieta in un gruppo di pazienti col glutuno e nessun effetto negativo di rilievo è un dato veramente importante da sottolineare. Questo evidentemente con una impostazione adeguata della dieta che viene adeguata durante il percorso e con un monitoraggio continuo di tutti gli aspetti importanti, quindi non solo dell'antropometria, dei parametri biochimici e della composizione corporea. Un aspetto particolare con cui mi avvio alla conclusione e che ci ha interessato recentemente è stato quello del monitoraggio dell'aderenza al trattamento. Allora, cos'è l'aderenza? È definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come il grado con cui il comportamento di una persona si adegua alle raccomandazioni dei sanitari riguardo ai farmaci, alla dieta o alla modificazione dello stile di vita. Quindi è un concetto piuttosto ampio che implica però una partecipazione attiva alle indicazioni ricevute dal sanitario, quindi non una semplice obbedienza. Abbiamo quindi voluto fare una revisione sistematica che è appena stata accettata per la pubblicazione in cui sono stati presi in considerazione gli studi che parlavano in qualche modo di aderenza. In realtà molti parlano di compliance che è un aspetto leggermente diverso, più passivo rispetto all'aderenza ma nel complesso è stato possibile recuperare 22 articoli e con grandissima difficoltà peraltro sono emesse, hanno confermato dei dati che in realtà noi conosciamo abbastanza, vale a dire che l'aderenza è generalmente più elevata nei bambini, minori, negli adolescenti e negli adulti e che certamente c'è un impatto della durata del trattamento per cui l'aderenza si riduce mano a mano che è lungo il periodo di trattamento. Ci sono evidentemente tutta una serie di difficoltà che impattano sull'aderenza al trattamento e a parte un'eventuale inefficacia molte sono legate alla dieta, quindi difficoltà nella preparazione dei pasti, le limitazioni dietetiche, anche il costo della dieta viene citato in qualche punto. Allora, possiamo dire che queste terapie possono essere impegnative e qui i pazienti e le famiglie presenti lo sanno molto bene, possono essere impegnative. Sarebbe utile quindi conoscere i fattori che più pesano sull'aderenza perché in questo modo è possibile anche cercare di supportare e abbiamo però una mancanza di strumenti e a questo scopo quindi è stato fatto questo lavoro, anche questo appena pubblicato e che ha visto il coinvolgimento di molti esperti italiani che ringrazio per la validazione di un questionario proprio per monitorare l'aderenza durante il trattamento. Si chiama Italian KetoCheck perché deriva da un altro questionario già presente a livello internazionale in Brasile e è stata proprio una nostra collaboratrice che è venuta a lavorare in Italia e dal Brasile e che ci ha dato l'idea. Per fare questo questionario sull'aderenza alla terapia chetogenica è stata necessaria prima una validazione dei contenuti che ha preso in considerazione appunto 12 esperti a livello nazionale, testare la riproducibilità e infine fare un'analisi anche fattoriale dei contenuti. Adesso ho messo in italiano le domande ovviamente per semplificare e ve le leggo. Allora quali sono le domande che possiamo fare per capire qual è l'aderenza alla terapia? La prima è ho condiviso con i familiari, conoscenze o scuola, lavoro, le caratteristiche della dieta e la necessità di non somministrare, assumere alimenti al di fuori della prescrizione. Mi sono organizzato per preparare i pasti che consentono di seguire la dieta anche fuori casa. misuro i livelli di chetosi secondo le indicazioni del mio centro di riferimento, peso gli alimenti secondo la dieta prescritta, assumo solo alimenti concessi nella prescrizione dietetica e ancora i medicinali e gli integratori sono sostituiti con analoghi prodotti senza zucchero, mi presento agli appuntamenti programmati con l'equip nutrizionale e neurologica, compilo le schede di monitoraggio che mi sono state fornite, leggo le etichette dei prodotti e chiedo se è consentito l'uso prima di consumarli, se cucino a casa con delle nuove ricette, mi confronto con lo specialista per validare le nuove ricette che individuo. Tutti questi sono aspetti che possono essere interessanti e che sono stati ovviamente valutati su un campione di pazienti con delle risposte che vanno da mai a sempre, quindi da 1 a 5 e sono emerse tutte queste domande che vi ho fatto vedere. È stata fatta un'analisi abbastanza complessa, in cui non entro nel merito, ma che evidenziano come alcune domande pesano più delle altre per discriminare i pazienti a bassa aderenza. Le domande che pesano di più sono quelle colorate, non le ho tradotte in italiano, per cui ve le leggo. Informare i caregiver, organizzare i pasti fuori casa, misurare i livelli di chetosi e non evitare i cibi non permessi, ovviamente presentarmi agli appuntamenti e tenere un diario. Tutti questi aspetti che sono indagati nel questionario possono essere raccolti in tre punti chiave dell'aderenza, e cioè l'attenzione, l'organizzazione e la precisione, che sono tre aspetti base che possono essere inclusi nella migliorare l'aderenza. Sul campione di soggetti che è stato analizzato è emersa anche una relazione, un trend, diciamo, anche se non significativo, tra valori più elevati di chetonemia nei pazienti che risultavano avere dei livelli eccellenti di aderenza con questo questionario. Quindi la domanda finale è che può servire per tutto quello che è l'obiettivo delle terapie, come migliorare l'aderenza. Certamente ogni equip ha le strategie, le sue expertise, ma ci possono essere dei promemoria, delle strategie organizzative, delle strategie di comportamento e problem solving per affrontare le barriere, sessioni motivazionali di gruppo, il supporto psicologico, che è certamente un aspetto fondamentale in molti casi, il monitoraggio anche tra le visite di controllo, proprio ad esempio attraverso le mail che si è dimostrato e abbiamo pubblicato in merito molto efficace. E quindi io vado a concludere ricordando come l'applicazione della terapia è cambiata negli ultimi decenni, che abbiamo a disposizione diversi protocolli anche con una distribuzione di macronutrienti un po' diversa, che ci consente una maggiore flessibilità, che il trattamento può essere individualizzato e modificato in corso di terapia e che è possibile anche adattare la scelta degli alimenti con una maggiore quota di grassi di origine vegetale. Che il monitoraggio accurato rimane essenziale nella prevenzione degli effetti collaterali, ma ovviamente dell'efficacia, io mi sono focalizzata sull'aspetto più di tipo dietetico, che una dieta normocalorica, normoproteica, integrata correttamente può supportare la crescita nei bambini. Rimane la difficoltà del seguire il trattamento a lungo termine e certamente aiutare i pazienti nell'aderenza, quindi cercare di capire quali sono i fattori e gli eventuali ostacoli, aiutarli a superare, è la chiave per una terapia a lungo termine. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio tutti i collaboratori dell'Università di Pavia, ai colleghi della Fondazione Neurologica del San Matteo e tutti i colleghi e amici che ci seguono nel tempo. Grazie molto. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.